Ciao a tutti, bentornati! Poco fa ha citofonato il Corriere e mi ha consegnato un pacco di Look Fantastic ma voglio mostrarvi anche un pacco di Sephora che mi è arrivato qualche giorno fa partire subito dal pacco di Look Fantastic Allora, ho preso un prodotto per capelli che mi serviva ed è la maschera di L'Oreal Professional io, come sapete, adoro le maschere di L'Oreal Professional infatti ho la versione gialla ma ho voluto prendere questa versione qui che è adatta per capelli deboli, sfibrati insomma, è una maschera rinforzante questa qui nello specifico è la B6 più Biotin quindi è una maschera rinforzante e andiamo a sentire anche la profumazione buonissima tipo rosina all'interno io poi queste maschere le uso da un sacco di anni ma da tantissimo anche perché il mio parrucchiere utilizzava questa linea di L'Oreal e non ho mai smesso di comprarle certo, ho provato tante altre, ne provo tante altre però queste maschere di L'Oreal non mancano mai poi, altra cosa di Look Fantastic che ho preso è una nuova palettina di Too Faced di quelle lì che io colleziono io ho preso questa qui, la Kitty Likes to Scratch con questo packaging un po' aggressivo molto leopard dovrebbe essere una nuova credo allora il packaging come sempre in latta io adoro queste palette oltre ad essere bellissime il packaging lo trovo meraviglioso piccole, comode quanto una mano è tendenzialmente una palette dei colori molto nude perché abbiamo il nero abbiamo i marroncini abbiamo qualche scimmerino prettamente nude volevo una piccolina da portarmi dietro con questi colori qui quindi l'ho presa e sono contenta no questa qui stranamente non ha nessuna fragranza di solito queste palettine profumano un sacco invece questa non sa non sa proprio di nulla oddio sono rimasta un po' male vabbè in realtà ho approfittato anche di uno sconticino su Look Fantastic in più ho intenzione appunto di collezionare queste palette di Too Faced quindi ho approfittato da Sephora invece altro pacco in realtà il contenuto di questo pacco l'ho spoilerato su Instagram qualche giorno fa il giorno stesso in cui mi è arrivato perché ero troppo gasata infatti chi mi segue su Instagram sa benissimo che lì soprattutto spoilerò spacchetto insomma parlo mostro quello che mi arriva seguitemi su Instagram mi raccomando rosa caggiano trattino basso perché magari non mi va di aspettare più di tanto e ho voglia anche di di aprirli spacchettarli e lo faccio immediatamente però magari per chi non mi segue su Instagram ma soltanto su YouTube chiaramente voglio mostrarvi anche qui quello quello che ho acquistato il pacchettino contiene però soltanto un prodotto cioè ho fatto l'ordine soltanto per questo prodotto perché avevo già fatto un ordine da Sephora che vi ho mostrato anche il contenuto volevo prendere questa cosa in particolare nello specifico ma non c'era e quindi ho dovuto poi prendere il resto allora finalmente sono riuscita a prendere i prodotti di Fenty Skin quindi la linea di skin care di Fenty Beauty io ho preso la versione travel size di tutti e tre questi prodotti perché voglio prima provarli voglio un po' vedere e testarli la cosa che più mi incuriosiva era proprio il Fat Water che non è altro che un mix e un ibrido tra un tonico e un siero poi c'è il detergente schiumogeno e anche la sua crema non mi sono informata più di tanto su questi prodotti ho soltanto letto che hanno una fragranza molto forte quindi per le amanti delle fragranze non piace per le amanti delle fragranze può piacere io infatti spero sia una buona fragranza ho sentito dire che a questo prodotto qui molto particolare è piaciuto tanto perché è molto idratante e illuminante quindi nutro aspettative su di lui e curiosa anche di provare il suo detergente schiumogeno vediamo un po' se riesco ad aprirlo l'ho aspettato penso due settimane non l'ho voluto neanche aprire però lo apro con voi in realtà penso anche che acquistando questo set qui che ci ha messo un po' per tornare reperibile secondo me il prezzo è molto conveniente rispetto al prezzo singolo dei singoli prodotti l'ho pagato credo se non ricordo male sui 34 euro l'intero kit e credo che non sia male per tre prodotti comunque non proprio piccolini infatti il detergente da 45 ml non lo trovo neanche molto piccolo vediamo un po' ah eccolo tra l'altro i packaging sono bellissimi non si leva via il tappo va soltanto girato e poi viene fuori il foro da cui esce poi il prodotto la fragranza non riesco a sentirla comunque dovrebbe essere un detergente adatto anche a tutte le tipologie di pelli poi andremo a vedere se un detergente è anche adatto per la mia pelle poi come vi dicevo prima il fat water che è da 50 ml quindi neanche troppo piccolo la fragranza però non riesco a sentirla sento un profumo fresco dovrebbe anche andare a minimizzare i pori curiosa anche di questo perché voi sapete la mia il mio debole il mio cruccio dei pori ed infine come vi dicevo la crema anche qui il packaging almeno di quel del formato full no il packaging è diverso rispetto al formato full è più particolare quello lì questa è da 30 ml ed è una crema idratante con spf 30 quindi benissimo anche come fattore di protezione infatti ultimamente soprattutto come creme di giorno preferisco applicare creme che abbiano all'interno un minimo di spf quindi vedremo qui questa la possiamo anche andare a vedere solo che finché viene fuori allora la fragranza non mi dispiace può non piacere a chi è intollerante alle fragranze e anche magari a chi ha la pelle sensibile mi piace invece mi piace molto io amo le fragranze perché mi sanno molto di coccola e la texture è molto leggera e si assorbe immediatamente non è molto corposa il che per la mia pelle va benissimo la mia pelle mista tendente al grasso nella zona T e quindi io non vedevo l'ora di scartare questo set di Fenty Beauty sono quindi curiosissima vediamo se ci dice qualcos'altro circa i prodotti del detergente ci dice che per una pelle pulita sempre morbida idratata detergente quotidiano e struccante per makeup in un solo prodotto del fat water che è il prodotto che più mi incuriosisce il prodotto più novità rispetto anche a quelli che ci sono in giro riduce all'istante la visibilità dei pori ci piace attenua le macchie scure ci piace tonifica la pelle per un effetto uniforme e antilucido ci piace tantissimo mantenendola idratata bene per quanto riguarda invece la crema viso idratazione leggera protezione solare invisibile si prende cura della tua pelle rendendola luminosa e riducendo la visibilità dei pori ottimo cosa importante da dire sui packaging è che sono anche ecosostenibili per molti può essere una sciocchezza per molti altri invece può essere anche un punto a suo vantaggio e questa cosa anzi secondo me fa onore e nulla io sono curiosissima infine poi Sephora mi ha mandato dei campioncini credo siano tutti i profumi tra cui due di Valentino e uno di Narcissio Rodriguez io tra l'altro prima utilizzavo il famosissimo Narcissio Rodriguez con la bottiglia rosa era il mio profumo preferito diversi anni fa questi erano i miei piccolissimi ordini fatti da Sephora e Look Fantastic ma comunque ci tenevo a mostrarveli pur essendo tre prodotti in sostanza però insomma ci tenevo a mostrarveli e nulla io come sempre vi mando un bacio grande iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate anche dal mio profilo Instagram ciao ciao